I prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie sono aumentati del 3,2% nel secondo trimestre dell'anno. Su base anno all'incremento è stato del 2,9%. Lo rileva l'Istat evidenziando che la crescita è stata dovuta soprattutto al costo delle nuove abitazioni in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente e in misura più contenuta a quelli delle costruzioni già esistenti. Il fenomeno riguarda tutto il paese ma è più marcato nel sud e nelle isole nel nord-est. A Milano si registra un aumento su base anno a del 4,7% in decelerazione rispetto al trimestre precedente. Seguono Roma dove il rialzo è stato dell'1,6% e Torino che fa segnare una crescita più contenuta. In crescita anche la compravendita degli immobili residenziali dopo un anno e mezzo in flessione. È in crescita il turismo all'aria aperta. I primi dati sul 2024 presentati al Salone del Camper a Parma confermano le previsioni e registrano un aumento di arrivi e presenze nelle strutture turistiche open air italiane. In termini assoluti gli arrivi dovrebbero attestarsi intorno agli 11,4 milioni con un incremento del 3,5% e le presenze intorno ai 71 milioni in aumento dell'1,3%. La situazione varia da regione a regione, tuttavia nella maggior parte delle strutture si conferma il trend di crescita già registrato nel 2023. Il giro d'affari si attesta intorno agli 8 miliardi di euro. In termini di presenze l'Italia è seconda in Europa dietro la Francia. Il Ministero del Turismo ha annunciato un bando da 33 milioni di euro per sviluppare le aree di sosta per i camper. Per Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping, le maggiori performance si registrano nel nord-est, ma in tutta Italia sono in atto un'espansione e un'evoluzione in termini qualitativi senza precedenti. Il sistema moda realizza un giro d'affari di 100 miliardi di euro e rappresenta un universo di circa 53 mila aziende. Il 20% di queste sono piccole e medie imprese che generano la metà del fatturato complessivo e svolgono un ruolo cruciale lungo tutta la filiera produttiva, sia nel mercato domestico che internazionale. Lo rileva Sace nel report sostenibilità e digitale, evidenziando come, con un export pari a 65 miliardi di euro, il settore è storicamente trainato dall'alta gamma e dalla media-bassa gamma. Per far fronte alle nuove sfide, sono due le priorità per le aziende del settore, investimenti in innovazione e la sostenibilità. La realtà aumentata e la blockchain possono migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi e personalizzare l'esperienza di acquisto. Si stima che l'adozione di tecnologie 4.0 e la formazione, mirate anche alla sostenibilità, aumenti la capacità di esportazione delle imprese del 15%, ma è necessario anche diversificare i mercati. Secondo il report di Sace, il 2025 porterà a una crescita della domanda internazionale del 3,9%, una dinamica che potrà favorire una ripresa del fatturato.